Sensibilizzazione dei giovani al tempo stesso, la formazione continua dei propri iscritti, in particolare sui temi della sicurezza. Queste alcune delle priorità dell'Ordine degli Ingegneri di Belluno. L'Ordine degli Ingegneri di Belluno sta bene, nel senso che comunque ci sono dei numeri interessanti per quanto riguarda la provincia. Abbiamo circa 860 iscritti. In previsione c'è da considerare che le lauree per cui serve l'iscrizione all'Ordine stanno diminuendo come attrattività, per cui notiamo un progressivo calo degli iscritti e in proiezione ci saranno delle grosse criticità per mantenere attiva il servizio. Una realtà che coinvolge professionisti, le cui attività spaziano su molteplici ambiti in un'evoluzione costante, in linea con le esigenze della società. Non siamo preoccupati tanto per la sostenibilità degli ordini, siamo preoccupati anche per la carenza di figure professionali nell'ambito dell'ingegneria prevalentemente civile. Risultano in questo momento più attrattive le professioni che riguardano l'informatica, la biometica e l'energetica. Tre sono state le nuove iscrizioni all'Albo nel 2024. In media negli anni scorsi erano almeno una ventina. Qual è il futuro delle professioni all'interno della provincia dolomitica? Questo uno dei temi trattati anche nel corso della stessa assemblea annuale degli iscritti. Non manca l'attenzione anche al tema delle Olimpiadi 2026. Benvenga la realizzazione di grandi opere sul territorio che possono veramente essere un incentivo anche per rimanere nel territorio stesso. Strategico inoltre, come detto, il ruolo della formazione e l'attività stessa che l'ordine promuove, con un occhio rivolto anche al mondo esterno. In corso di svolgimento un'attività con lo Spisal di Belluno. Il servizio Spisal ha dati primari di importanza per noi, per i nostri committenti, per la qualità e la sicurezza delle opere che poi con il nostro operato in qualche modo vengono realizzate. Quindi abbiamo bisogno di confrontarci assolutamente con una fonte primaria, come appunto sono i servizi di sicurezza nell'ambiente di lavoro che è prestato da Spisal. Spisal.